24. Thalete di Mileto Thalete, 640-625 a.C. circa Filosofo greco, il più importante tra i sette uomini famosi per la loro sapienza, primo scopritore tra i greci della geometria, dice Non abbellire il volto, ma abbellisci i costumi Commento È facile constatare come grandi uomini che hanno lasciato tracce importanti nella storia dell'umanità dopo aver viaggiato in lungo e in largo nella loro mente si sono avvicinati a una concezione morale, cioè coscienziale, della vita. Grazie 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 Grazie